Cari spettatori del cinevirus, oggi parliamo di Blade Runner, 1982, regia di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Auer. È uno di quei film che spalancano una dimensione dell'immaginario, un mondo, grazie alla potenza audio e visiva del cinema e in questo caso al talento visionario di Ridley Scott. Siamo nel 2019, dovrebbe essere una distopia, ma il calendario ci dice che siamo ormai già ben oltre, ma non per questo il film non resta assolutamente attuale. Los Angeles, un'atmosfera cupa, notturna, bagnata ininterrottamente dalla pioggia, con etnie formicolanti e navi, auto che volano e fiammeggiano nel cielo. Il protagonista è Roy Deckard, interpretato da Harrison Ford, tratto da un romanzo di Philip Dick. È un cacciatore di replicanti. I replicanti sono degli android organici che la tecnologia consente ormai di realizzare, simili agli uomini, forse anche nei sentimenti e questo è il problema. Roy deve dare la caccia a sei di questi replicanti che si sono ribellati e purtroppo per lui si innamora anche di uno. Il film segue questo doppio intreccio fino alla fine, quando Deckard si trova di fronte all'ultimo dei replicanti, Roy Betty che tiene una colomba in mano. Ma il film, al di là della storia, è la sua atmosfera. Lo spettatore viene intriso di questo mondo piovoso e notturno e infernale, per certi versi, che il film emette in scena. E poi la colonna sonora di Vangelis. È una dichiarazione finale a futura memoria. «Io ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare, navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione e raggi bi-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam.